... Savona Teramo per Palazzi è stato un illecito sportivo Chiesto il processo per responsabilità diretta e oggettiva Cronaca c'è un terramano tra le menti della colossale truffa della benzina scoperta dalla finanza Giulia Nova turista morto all'ospedale per la legionella LASL rassicura nessun altro caso Comune di Teramo il bilancio passa ma il PD accusa tartassa i cittadini e taglia i servizi Adesso via alla verifica Villavomano e residenti insorgono contro la presenza di gruppi di nomadi che sporcano Corropoli consiglio lampo e senza opposizione 11 argomenti trattati in 10 minuti Sport calcio Donna Rumma carica il Teramo voglio essere il leader di questa squadra Memoria all'Angeluce a piazza Sant'Anna questa sera le giovani azzurre prendono a pugni le pari età polacche Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte Dopo 102 anni di storia è vero che il Teramo ha conquistato per la prima volta la serie B Ma è anche vero che per la prima volta conosce un deferimento dinanzi ad un tribunale della giustizia sportiva Campitelli e Di Giuseppe sono stati deferiti per il lecito sportivo per il Teramo responsabilità diretta e oggettiva Notificate oggi le richieste del procuratore federale Palazzi i dettagli nel servizio Il procuratore federale Stefano Palazzi ha chiesto il deferimento dinanzi al Tribunale federale nazionale per il lecito sportivo del presidente Luciano Campitelli e del direttore sportivo Marcello Di Giuseppe per la partita Savona-Teramo del 2 maggio scorso valevole per la penultima giornata del campionato di Lega Pro vinta dai Biancorossi per 2 a 0 Gli atti sono stati notificati oggi ai diretti interessati e al Teramo Calcio SPA quale soggetto coinvolto per responsabilità diretta e oggettiva Anche a Savona viene contestata la doppia responsabilità diretta ed oggettiva con il deferimento del presidente delle piane Analogo coinvolgimento per Corda, Barghigiani, Pesce, Di Nicola, Matteini e l'ultimo arrivato Cenicola, chiamati in causa per diversi ruoli nell'ilecito e per omessa denuncia Secondo la procura federale, che lo ha scritto in quasi 150 pagine con allegate in particolare le dichiarazioni dell'ex tecnico di Savona e Barletta, Nini Corda quello relativo a Savona-Teramo è un illecito consumato La partita fu comprata, dice Palazzi, attraverso la corruzione di uno o più giocatori in corso di identificazione con una somma di almeno 30.000 euro, con l'intervento di alcuni mediatori affinché il Teramo vincesse sul campo e ottenesse così la vittoria anticipata del campionato di Lega Pro con conseguente promozione in serie B Di nuovo, dunque, nulla, se non la firma sotto ad una richiesta di processo con probabilissima richiesta di retrocessione del Teramo fino alla serie D La palla adesso non è più nelle mani della sommaria procura federale passa ai giudici del Tribunale federale nazionale che tutti insieme dovranno valutare la fondatezza dell'impianto accusatorio di Palazzi ascoltando finalmente anche la versione del Teramo e di Campitelli Se ne riparerà a Roma il prossimo 12 agosto, data in cui sarà celebrato il processo E per il filone Dirti Soccer, l'inchiesta madre della DDA di Catanzaro dalla quale è scaturita poi la tranche relativa a Savona Teramo e nell'ambito della quale è agli arresti domiciliari dal 19 maggio Ercole di Nicola la procura federale ha firmato i deferimenti per responsabilità diretta per altre quattro società Barletta, che però nel frattempo non si è iscritta alla Lega Pro Brindisi, Torres e Vigor Lamezia L'Aquila Calcio è deferita per responsabilità oggettiva per il coinvolgimento di Di Nicola Deferiti anche 5 presidenti e 16 tesserati tra i quali di nuovo Nini Corda e Di Nicola Gli altri club che dovranno rispondere di varie responsabilità sono Turris Neapolis, San Severo, Acragas Città dei Templi Puteolana 1902 Inter Napoli, Pisa 1909, Paganese Calcio 1926 E torniamo adesso a parlare del turista morto in provincia di Teramo per Legionella La ASL dice che la profilassi è stata regolare, non ci sono altri casi l'azienda sanitaria e l'Arta sono intervenute sulla struttura residenziale con bonifica e prelievi Il servizio La profilassi adottata immediatamente dalle strutture proposte della ASL di Teramo hanno permesso di escludere la presenza di altre persone contagiate dalla Legionella nella struttura residenziale della costa Teramana dove si trovava in vacanza il pediatra 79enne Spoletino Gianfranco Costantini Il medico è morto all'ospedale di Giulianova a un mese da ricovero nel reparto di reanimazione e i test effettuati su moglie e sorella avrebbero dato esito negativo per Legionella Il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Teramana, Maria Mattucci tranquillizza la popolazione e gli ospiti delle strutture alberghiere della costa Teramana ricordando che la macchina di prevenzione della ASL è scattata tempestivamente alla diagnosi di Legionella fatta dai medici del Santissima Annunziata di Giulianova al momento del ricovero del paziente in reanimazione Il medico Umbro è raggiunto il nosocomio giuliese dopo alcuni giorni di sofferenza per una sintomatologia simile all'influenza ma in condizioni molto critiche perché l'apparato respiratorio era già compromesso dall'attacco del batterio che si annida soprattutto d'estate in climi umidi negli impianti di ricircolo delle acque, serbatoi, vasche stagnanti o nei sistemi di condizionamento, di umidificazione o di trattamento dell'aria La verifica fatta tempestivamente attraverso la ricerca dell'antigene nelle urine secondo le nuove linee guida ministeriali ha confermato la diagnosi e fatto scattare il piano di prevenzione nella struttura ricettiva costiera dove i turisti alloggiavano Sono stati fatti prelievi delle acque da parte dei tecnici dell'Arta i cui risultati non sono ancora noti La notizia ha diffuso molta apprezzione sia tra i titolari delle strutture alberghiere stracolmi di ospiti in questo mese di luglio sia di chi sta trascorrendo le vacanze al mare in queste zone La Legionella torna ad attualità proprio in questi giorni in cui si parla dell'obbligo di certificazione degli impianti di condizionamento superiore ai 12 chiusi E' particolarmente caldeggiato il consiglio di rivolgersi ai manutentori di questo tipo di impianti anche se esenti da certificazione affinché facciano gli interventi di prevenzione di un'eventuale presenza del batterio la cui recrudescenza è proprio nei periodi estivo e autunnale La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto un'associazione per delinquere e posto fine ad una delle più ingenti frodi fiscali nel settore dei prodotti petroliferi degli ultimi anni Al termine di un anno di indagini coordinate dalla Procura di Macerata l'operazione Caravan Petrol si è conclusa con il sequestro di beni per oltre 8,6 milioni di euro e l'arresto di tre persone un teramano, un marchigiano e un napoletano I tre avevano dato vita nelle rispettive province a sette società cartiera cioè fittizie solo sulla carta le società acquistavano carburante da varie raffinerie italiane simulando di essere abituali esportatrici all'estero per evitare di pagare l'IVA Prima di scomparire senza versare le imposte le aziende cartiera cedevano gasolio e benzina sotto costo a società compiacenti che operano effettivamente nella distribuzione del carburante lungo strade e autostrade queste ultime vendevano il carburante alla pompa a prezzi leggermente inferiori a quelli di mercato con margini di profitto tutti in danno della concorrenza Sui benzinai sospettati di acquistare e rivendere il carburante acquistato in modo illecito gli accertamenti sono ancora in corso Si tratta di una cinquantina di distributori di marche per la precisione 5 impianti in questa regione Lazio, Campania, Puglia, Abruzzo, Calabria e Molise Ai tre arrestati che hanno tenuto i domiciliari e agli altri 15 indagati le fiamme gialle hanno notificato in queste ore il sequestro per equivalente di 21 immobili per un valore di 1,4 milioni di euro 7 autovetture e 70 conti bancari Le ipotesi di reato formulate dal procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio sono associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla truffa aggravata ai danni dello Stato sul fronte di possibili violazioni alle norme sulla libera concorrenza gli approfondimenti proseguono Lasciamo la cronaca parliamo del comune di Teramo entro ferragosto potrebbe esserci l'attesa verifica di giunta lo ha detto il sindaco Brucchi che adesso ha approvato il bilancio lavorerà intensamente sul rimpasto e sulle scelte che farà chiarisce nessuna imposizione dall'alto io ho sempre parlato con tutti assessori e consiglieri l'intervista Entro ferragosto la verifica di giunta Ma normalmente in politica il caldo di ferragosto e sotto l'ombrellone è il momento migliore per poter fare queste scelte per svolgere questo compitino ma insomma io dico che innanzitutto ieri abbiamo provato un bilancio di previsione importante Tutta una serie di altre situazioni che ci hanno permesso di recuperare un gap all'inizio che a novembre era di circa 3 milioni e mezzo di euro quindi questo è il primo aspetto a fianco a questo aspetto c'è quello che abbiamo detto che a un anno avremmo fatto la verifica di giunta la stiamo facendo e la faremo Sindaco a quei consiglieri in primis Falasca che le hanno detto il sindaco faccia il sindaco e non faccia scelte imposte dall'alto proprio in merito al rimpasto di giunta lei come risponde? Falasca ha detto il sindaco faccia il sindaco e si è fermato lì voi adesso aggiungete questa frase ma guardi io credo di averlo fatto sempre il sindaco in questi sei anni credo di essermi sempre assunto le responsabilità delle cose che ho fatto così come farò anche adesso se l'amico Vincenzo Falasca col quale ho parlato ci siamo confrontati vuole significare vuole dire che comunque è il sindaco che impone le sue scelte io dico che sono abituato ad ascoltare l'ho sempre fatto l'ho imparato dalla politica ascoltare ascoltare i cittadini ascoltare il responsabile delle liste dei partiti ascoltare la propria maggioranza l'ho sempre fatto quindi c'è stata questa prima fase di confronto e di ascolto adesso ne seguirà un'altra un po' più intensa di rapporto con i partiti con le liste e con la maggioranza senza ansia e senza angoscia questo lo si fa senza ansia e senza angoscia e dopo di che arriveremo a quella che è la conclusione di questo percorso però senza resteranno quelli che sono oggi gli assessori o diminuirà il numero in giù quindi 20% di riduzione che può significare o una riduzione degli assessori da 9 a 7 o una riduzione di compensi resteranno 9 voglio precisare che l'Aquila ha 9 assessori Pescara ha 9 assessori e Chieti ha 9 assessori quindi però ripeto senza ansia e senza angoscia molto serenamente perché anche gli assessori che stanno lavorando devono continuare a lavorare con serenità ho chiesto a loro una relazione puntuale del lavoro svolto in questo anno che io conosco però voglio vedere anche come l'assessore si vede e si legge in questo anno di attività questo è importante dopodiché tireremo le somme il caldo d'agosto sicuramente ci aiuterà Intanto l'assessore al bilancio del Comune di Teramo Eva Guardiani si è detta particolarmente soddisfatta per l'approvazione del bilancio da parte di tutta la maggioranza ha parlato di condivisione di scelte politiche comuni sentiamola Il bilancio del Comune di Teramo è stato approvato a maggioranza con i 21 voti dei consiglieri di maggioranza hanno votato contro solo i consiglieri di opposizione Sì una buona maggioranza la maggioranza per l'intero ha votato questo bilancio ma con il quale è stato costruito la maggioranza ha partecipato in maniera molto attiva a strutturare a organizzare a decidere almeno nelle parti naturalmente dove c'era bisogno della decisione politica i temi importanti di questo bilancio quindi sono stata contenta un bilancio condiviso un bilancio per lo più tecnico perché insomma quest'anno è entrando in vigore il bilancio armonizzato che un attimo ci ha spiazzato con dei vincoli e delle limitazioni che hanno reso un po' più rigide le decisioni anche politiche però un bilancio che ritengo un buon bilancio visti il momento ma sicuramente non il migliore ma stiamo già lavorando per la stesura del prossimo perché le decisioni insomma sono tutte da prendere e nella speranza che si possa attuare questo piano di ripresa insomma che tra almeno uno o due anni possa dare dei frutti concreti L'opposizione è stata molto critica soprattutto per quanto riguarda il taglio di alcuni servizi e il famoso milione di euro che dovrebbe entrare dal pagamento delle multe La minoranza a detta della minoranza non ha avuto forse il tempo ma non ha saputo leggere appieno il bilancio perché i servizi non sono stati tagliati nella maniera più assoluta sono gli stessi degli anni passati della stessa qualità abbiamo soltanto avviato la compartecipazione dei servizi sociali se per taglio intendono quello del micronido comunque è stato esternalizzato non è un servizio tagliato naturalmente abbiamo dovuto fare economie per quanto riguarda la polemica degli impianti sportivi anche qui una contabilizzazione diversa che ha portato ad avere un dato che sembra maggiore lo stesso che sembra maggiore anche del personale dove invece i tagli con il prepensionamento e anche con il taglio dei premi insomma è qualcosa di diverso è sicuramente in diminuzione e sono dei calcoli degli indici completamente diversi dagli altri bilanci non può essere d'accordo e non solo per ruolo l'opposizione sul conto preventivo il partito democratico dice che tartassa i cittadini e taglia i servizi sentiamo il sindaco Brucchi in consiglio comunale ha detto che questo era il miglior bilancio che l'amministrazione potesse fare voi cosa ne pensate? il miglior bilancio per non andare in dissesto allora se guardiamo questo aspetto sicuramente sì in realtà questo bilancio è un bilancio che prevede 50 milioni di anticipazione di cassa è un bilancio che non ha assolutamente tagli nelle utenze che rimangono a 4 milioni di euro come spesa che non prevede costi tagli nei costi della politica perché parliamo di un 20% solo per 6 mesi quindi di circa solo 40 mila euro ma che però ha all'interno un recupero di spese di costi attraverso l'eliminazione dei servizi della pulizia degli immobili e del verde che ha come conseguenza il licenziamento di personale che prevede un'entrata di spesa per circa 2 milioni per le famose contravvenzioni non è assolutamente vero quello che dice Brucchi che parliamo solo di 200 mila euro parliamo di 2 milioni di euro di entrati di previsioni per contravvenzioni pensa le tasse rimancono al massimo non vi è assolutamente riduzione della liquida in più c'è una compartecipazione dei servizi sociali con un'eliminazione di supporti a famiglie con previsione di pagamento di 15 euro a ore per avere l'assistenza ragazzi invalidi avendo un'isee di solo 14 mila euro io credo che questo vada rivisto bene la compartecipazione chiedi più paghi di più ma non si può ulteriormente colpire le famiglie di Terramane il discorso Team invece avete deciso di rinviarla a fine agosto beh certo parliamo di un bando per il raffidamento dei servizi tutti i servizi che ha la Team inoltre per l'individuazione del nuovo socio e come sappiamo questo socio ha finito il suo rapporto con il comune si tratta di un appalto di circa di oltre 100 milioni di euro che aveva una durata di 10 anni quindi oltre il governo Brucchi meritava un'ulteriore riflessione in quanto tutte le carte sono state predisposte solamente due giorni fa nella loro completezza e credo che un confronto e un approfondimento di qualche altro giorno anche da parte degli uffici questo argomento lo meritava per evitare proprio che possa essere bloccato per irregolarità parliamo di una gara molto importante che comunque il futuro non solo della Team ma anche del costo del rifiuto per Teramo Lo strumento contabile licenziato dal Consiglio Comunale ha trovato la condivisione di chi sulla politica contabile ha sempre espresso rilievi critici ovvero il consigliere di maggioranza Alfonso Di Sabatino Martina Il bilancio approvato ieri lei lo ha definito comunque un bilancio discreto Sì un bilancio che rispecchia buona parte di quelle iniziative che erano state assunte con delibere programmatiche nello scorso settembre e che nella difficoltà del momento è un bilancio comunque che ha un'anima e che ha anche devo dire una esemplificazione numerica di alcune iniziative che all'epoca potevano sembrare enunciazioni di principio che invece oggi non hanno avuto una traduzione pratica Lei condivide tutte le scelte politiche che ci sono dentro questo bilancio? Beh tutte no tutte no forse ci vuole più coraggio in alcune iniziative sugli impianti sportivi deve essere ancora fatto molto c'è sicuramente la rinegotazione dei mutui che è stata votata ma che ha un impatto importante sulle future generazioni però è anche vero che tante iniziative per esempio la pulizia degli immobili la riduzione dei fitti passivi sono state compiute e credo che su queste insomma debba essere dato merito a chi ha compilato il bilancio si poteva fare meglio secondo lei che è stato anche assessore al bilancio si può sempre fare meglio si può sempre fare meglio però io credo che questo era un bilancio importante perché era il primo vero bilancio di inizio mandato e alla luce anche delle complessità che ci sono e della riduzione dei trasferimenti credo che comunque uno sforzo sia stato fatto recuperare 3 milioni di euro di gap non era facile e quindi a questa amministrazione questo merito va dato Nella piazza principale di Villa Vomano sostano da giorni dei nomadi che denunciano i cittadini lasciano sporcizia ovunque danneggiano gli arredi urbani chiedono pertanto l'intervento del comune per sgomberarli e magari trovare un'area più idonea per la loro sosta sentiamo In piazza Ser Paolo Bartolomeo a Villa Vomano da qualche giorno sostano dei nomadi con diverse roulotte queste persone secondo la denuncia di alcuni cittadini stanno sporcando l'area anche con alcuni atti vandalici voi avete informato l'amministrazione comunale trattandosi di luogo pubblico di quello che sta succedendo Sì i cittadini di Villa Vomano sono esasperati dal disagio che si sta creando verso la piazza di Ser Paolo Bartolomeo tutti i rifiuti che vengono lasciati come si possono vedere nelle foto bombole sono state sradicate delle panchine se sono stati loro o non però sono state appropiate portate vicino all'accampamento e non viene più neanche utilizzata la piazza dai residenti avendo paura giustamente che i bambini circolino da solo e tutto Da alcuni giorni va avanti questa situazione? Sì da alcuni giorni ma da molti mesi perché che succede che come viene fatto sgomberà il campo dopo alcune settimane ne arriva un altro siccome vorrei ricordare che lì c'è un'ordinanza del sindaco dove viene che non si può sostare permanente è una sosta solo per l'autovettura però a ore dopodiché non ci può stare nessuno io chiedo pure all'amministrazione di far valere dei diritti su quella piazza e di dare la possibilità a questi nomadi di trovare una soluzione in delle aree predispose dove loro possono accampare non è che Villavomano è razzista non è assolutamente razzista anzi noi chiediamo che venga tutelata la piazza e che venga data anche a loro la possibilità di accampare in zone idonee dove loro possono raccogliere l'immondizia dopo che vanno via perché devo far sottolineare che la TEAM ogni volta che vanno via devono fare un riciclaggio di materiale lavatrici frigoriferi buttano di tutto l'impensabile bombole e giustamente i cittadini che pagano le tasse si sentono pure messi da parte non tutelati su dei diritti che dovrebbero essere i primi per tutti un consiglio comunale che aveva 11 punti all'ordine del giorno risolto in appena 10 minuti e la pesante accusa che lancia nei confronti del sindaco di Corropoli Dan Nuntis il consigliere comunale del PD di Corropoli Luigia Fabiano in riferimento all'assise civica convocata ieri sera e che doveva discutere di aliquote imu, tasi e tari oltre che del piano triennale delle opere del regolamento di videosorveglianza e l'ennesima beffa che si consuma i danni dei cittadini Corropolesi scrive il capogruppo dell'opposizione con un consiglio riunito in anticipo rispetto alla convocazione notificata privo di un confronto nella sede ufficiale ed espressione di un potere arrogante e accentratore secondo la Fabiano nemmeno Flash il supereroe sarebbe stato così veloce in merito a decisioni che come opposizione dice riteniamo richiederebbero maggiore attenzione siamo stati volutamente estromessi dal confronto dice ancora l'esponente del PD e impossibilitati dal presentare eventuali obiezioni in merito e così anche la critica al mancato inserimento nei lavori consigliari della discussione sull'assenso alla donazione degli organi attraverso la carta di identità passa in secondo piano l'housing sociale apre a tante prospettive e scelte appropriate che potranno conseguire con risultati in più settori in quest'ottica l'assessore regionale Di Matteo ha organizzato a Chieti l'incontro con attori economici politici e sociali coinvolti e con interessi convergenti nel processo di trasformazione il servizio dall'edilizia all'housing sociale l'assessore regionale Donato Di Matteo coglie la palla al balzo durante il convegno al parco Paglia di Chieti incontro convocato per discutere con amministratori locali imprenditori privati ordini professionali associazioni di categoria istituti di credito le fondazioni bancarie sulle buone pratiche che l'assessorato pone in essere per favorire la trasformazione del patrimonio immobiliare e lancia la sua proposta Dobbiamo rilanciare l'edilizia costituiremo questo aggregato che è il fondo per far confluire i beni e far realizzare operatività che rilancino il settore dell'edilizia E' una scossa che Di Matteo vuole dare anche al settore edile con tutto l'indotto del sistema delle costruzioni La crisi ha comportato un crollo della domanda tradizionale di abitazioni ora condizionata anche da cambiamenti sociali ed economici Gli obiettivi quindi del governo regionale sono rilanciare l'occupazione e aiutare attraverso l'affitto a prezzi calmerati le persone che hanno più bisogno Incentivare la domanda di edilizia residenziale sociale e il mercato delle abitazioni Individuare nuove modalità nella pianificazione urbanistica da attivare per assicurare aree a costo zero e prospettive aperte dal nuovo sistema dei fondi immobiliari per l'edilizia residenziale sociale È una grande scommessa serve a innovare serve a rinnovare e serve anche efficientare Il consigliere regionale Leandro Bracco ha presentato una proposta di legge per l'istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza figura fondamentale per la tutela dei diritti dei minori di servizio Il suo ruolo è quello di garantire i diritti fondamentali dei minori promuovere e vigilare i loro interessi a livello familiare scolastico ambientale sociale educativo e culturale Si tratta insomma di una figura che tutela i più giovani a 360 gradi e che è presente in tutte le regioni d'Italia eccetto Abruzzo e Valle d'Aosta Ed è il consigliere del gruppo misto Leandro Bracco a voler colmare questo vuoto normativo presentando una proposta di legge per l'istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Questa figura verrà prevista con questo progetto di legge che ho presentato nei giorni scorsi in consiglio regionale all'Aquila mi auguro che venga già calendarizzato in commissione a settembre e me lo auguro per l'estrema delicatezza delle tematiche che tratta quindi a settembre in commissione mi auguro e quanto prima entro fine anno in consiglio per approvare la nascita di questa figura che appunto andrebbe in carica da gennaio del prossimo anno Tra le funzioni principali e più delicate del garante la vigilanza sui fenomeni dei minori scomparsi dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali la lotta allo sfruttamento minorile un controllo serrato per contrastare fenomeni di evasione ed elusione dall'obbligo scolastico e il contrasto di ogni forma di bullismo all'interno delle classi e online prosegue con successo Ripattoni in Arte che domani sera propone un concerto jazz in collaborazione con la società della musica e del teatro Primo Riccitelli di Teramo sentiamo appuntamenti importanti domani a Ripattoni in Arte Sì a chiusura di una settimana molto intensa la quale abbiamo avuto molta soddisfazione nella partecipazione anche importante di artisti di gente di persone che hanno visitato la nostra manifestazione domani domani sera un concerto jazz organizzato anche con la collaborazione della società dei concerti di Riccitelli il trio Falasca poi nel pomeriggio ci sarà la tradizionale premiazione del premio Sorgentone ma insomma chi volesse visitare ancora l'omaggio a Pietro Cascella il grande maestro scultore abruzzese Massimo Piunti con la sua esposizione la mostra di surrealismo dedicata a Giger e tutti gli angoli del borgo dedicati e comunque predisposti per una bella passeggiata solo per arte e territorio può venire a Ripattoni e parte ad agosto il primo festival del Saltarello l'evento itinerante si sposterà in molte piazze della provincia terramana con concerti conferenze e stage di danza sentiamo dal primo al 30 agosto arriverà a Teramo il festival del Saltarello come nasce questa iniziativa? allora questa iniziativa nasce l'anno scorso a Pagliaroli abbiamo realizzato il primo festival del Saltarello ad ottobre siccome è stata un'iniziativa di grande successo abbiamo pensato di allargarla per la seconda edizione a fare un festival itinerante in tutta la provincia di Teramo e come potete vedere dal manifesto abbiamo la prima tappa il primo agosto a controguerra e invece l'ultima a Pagliaroli il 30 agosto quindi esattamente un mese di manifestazione ecco che cosa si farà in questo festival quali sono gli eventi che ci saranno? allora in tutta la manifestazione abbiamo circa 50 stage che sono sia di danza che di strumento quindi abbiamo stage di ballo saltarello teramana saltarello rosetano ballata ballarella spallata di schiavi insomma saltarello marchigiano invece per quanto riguarda gli strumenti abbiamo gli strumenti tipici del saltarello vogliamo spiegare come nasce il saltarello che cos'è il saltarello? il saltarello è un aspetto musicale un aspetto tradizionale caratterizzante del territorio teramano l'operazione del festival saltarello nasce il festival saltarello nasce da un'operazione di ricerca e di riscoperta di questa tradizione Rocca Roseto sembra secondo quello che sono state le nostre ricostruzioni essere stato il luogo dove potrebbe essere nato veramente il saltarello Rocca Roseto è una rocca costruita in periodo medievale sopra a Cortino rappresentava una dogana una dogana principale per la transumanza quindi è verosimile pensare che in quegli enormi pascoli si radunassero migliaia e migliaia di capi con al loro seguito centinaia di pastori con al loro seguito al loro avvolto i loro strumenti le zampogne gli organetti i tamburelli ed è verosimile pensare che proprio lì ci possa essere una nascita poi da lì parte la transumanza si sposta sempre verso il sud dell'Abruzzo e anche con lui cambia anche il saltarello le rane in tutte le salse saranno le protagoniste della sagra di Fontanelle di Atri che si aprirà domani e si concluderà il 5 agosto i dettagli nel servizio da domani al 5 agosto a Fontanelle di Atri torna la festa delle rane dei prodotti tipici locali organizzata dall'associazione Fontanelle 2000 cosa potranno degustare i visitatori della sagra? soprattutto la rana la rana fritta la rana con la pasta la pasta fatta in casa le sardelle con i peperoni ovviamente ci sono anche prodotti non a base di rana per quelli che non mangiano la rana che è un alimento un po' particolare è certo la specialità è la rana però dobbiamo anche fare altri prodotti locali delle tradizioni contadine perché Fontanelle di Atri ha questa tradizione legata alle rane? beh la tradizione legata alle rane è proprio la vicinanza del fiume Vomano il fiume Vomano ha sempre rappresentato una fonte di ricchezza per il territorio non solo perché in passato le inondazioni dava fertilità al terreno e perché la rana c'era un po' questa tradizione di consumare soprattutto nel periodo estivo queste rane che era un piatto povero della cucina abruzzese ma della cucina tipicamente terramane ma anche in modo particolare dei paesi bagnati dal fiume Vomano lavoreranno come volontari nel corso della Sagra sette persone in misura alternativa e anche un modo per reinserirli socialmente indubbiamente io colgo sempre l'occasione che il territorio mi offre in questo momento l'associazione Fontanella mi ha proposto la partecipazione di alcune persone che scondono la condanna all'esterno anziché in carcere di farli partecipare a questa esperienza in passato ho curato tante iniziative proprio perché voglio cercare di offrire delle opportunità affinché queste persone restituiscono qualcosa alla collettività quindi espletteranno questa attività a livello di volontariato e tutti hanno accettato volentieri perché è vero che sono persone che hanno sbagliato perché sono persone la cui contanna è passata in giudicato per cui c'è un giudizio definitivo però nello stesso tempo vogliono rendersi utili e adesso vediamo che tempo farà domani con le previsioni di meteoteramo.it Previsioni in Abruzzo Al mattino sereno sulle zone montane sereno sulle zone litorane e collinari nel pomeriggio coperto per nubi alte stratificate con deboli piogge lungo la dorsale appenninica parzialmente nuvoloso sui settori orientali tra sera e notte coperto per nubi alte stratificate con deboli piogge specie sulle zone marittime temperature in aumento massime comprese tra 32 e 35 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 31 e 34 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli orientali ma è quasi calmo poco mosso in provincia di Teramo al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale nel pomeriggio coperto per nubi alte stratificate con deboli piogge lungo la dorsale appenninica parzialmente nuvoloso sulle zone orientali tra sera e notte variabile con rovesci di pioggia moderati o intensi sulle aree interne e sui rilievi moderatamente nuvoloso sulle aree marittime temperatura insensibile l'aumento massime comprese tra 32 e 35 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 30 e 33 gradi sulle coste venti deboli orientali mare quasi calmo poco mosso nuvoloso Siamo allo sport, iniziamo con il calcio. Il Teramo prosegue il suo ritiro a Rivi Sondoli. Domenica disputerà l'ultima amichevole contro la Virtus Francavilla, prima di tornare in città per continuare la preparazione. In attesa di conoscere gli sviluppi della trattativa Roberto Inglese e in attesa della firma di Simone Calvano, i Biancorossi si godono il ritorno di Alfredo Donnarumma. L'attaccante partenopeo ha parlato della nuova squadra che sta nascendo e della voglia di essere un punto di forza per gli abruzzesi. Il capo cannoniere di tutti i campionati professionistici nazionali nella stagione sportiva scorsa. Sono felice di essere ritornato qui a Teramo, dove ho trascorso un anno bellissimo, con tante soddisfazioni personali e di squadra. Come procede l'intesa invece con Da Silva, con D'Agostino? Chiaramente sono partner d'attacco diversi. Come sta andando? No, vabbè, sicuramente sono ragazzi nuovi, interessanti e bravi tecnicamente. Ora bisogna allenarci e affinare un po' l'intesa e loro si devono integrare nei nostri movimenti. Le qualità, secondo Alfredo Donnarumma, che il Teramo dovrebbe riproporre quest'anno? No, vabbè, io penso che bisogna lavorare sempre su quello fatto l'anno scorso, perché comunque siamo una squadra che gioca bene, che fa un calcio intenso e di aggressività. Quindi la strada è quella e va intrapresa sempre la stessa strada. Riabbracci la Lega Cadetta a distanza praticamente di una stagione, poco più. Quali sono le tue aspettative adesso? No, vabbè, sicuramente dopo un anno importante fatto l'anno scorso, io quest'anno vorrei cercare di dare continuità al mio percorso di crescita, quindi mi auguro di riuscire a fare più che posso per questa squadra e per questi colori. Le gambe invece come procedono dopo più di una settimana oramai di ritiro in quello di Rivisondoli? No, vabbè, sicuramente la stanchezza si fa sentire, i carichi, diciamo, stiamo lavorando tanto, quindi procede bene e man mano si comincia a vedere i risultati. E quanto ti senti leader di questo gruppo anche agli occhi dei tifosi? No, vabbè, io spero di dare un contributo importante a questa squadra sia dentro il campo che fuori al campo e spero che i ragazzi mi vedano come un punto di forza di questa squadra perché ne sono fiero di riuscire a dargli una grossa mano. Questa sera alle 20.30 a Piazza Sant'Anna a Teramo arriva la grande box femminile in ricordo di Arnaldo Angelucci. Sul ring le atlete italiane sfideranno quelle polacche nel dual match youth, il servizio. Teramo ospita questa sera il dual match tra le nazionali femminili youth e junior di Italia e Polonia in un duplice confronto con le protagoniste degli imminenti campionati europei giovanili in programma dal 16 al 24 agosto in Ungheria. L'evento, sponsorizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana, è intitolato al maestro teramano di box, Arnaldo Angelucci, pioniere dell'arte presso la società pugilistica teramana, scomparso prematuramente nel 2010. In Italia ci saranno pure due campionessi mondiali, è presente la testa se non sbaglio, e niente, le ore 21 a Piazza Sant'Anna. Un vero e proprio evento sportivo? Sì, sì, puro. È la prima volta che si svolge a Teramo un incontro di questo tipo? Sì, sì. È la prima volta che organizzo pure io da solo, nel senso, anche grazie a Campana e a tutti quanti, però è stata dura e speriamo che il tempo regga soprattutto, soprattutto. Lei ha raccolto le realità di suo padre, che tra l'altro viene ricordato con questa manifestazione che è Arnaldo Angelucci, che è stato un'icona del pugilato a Teramo. Sì, sì. Quello di Teramo è l'ultimo test prima dei campionati europei? Sì, diciamo questa sera e dopo domani a Civitella Roveto saranno gli ultimi due combattimenti ufficiali della nazionale Jute Junior e qui si selezionerà la squadra per andare poi a partecipare ai campionati a Kesteli in Ungheria. Sì, è un evento importantissimo, un incontro fra le nazionali giovanili di Italia e Polonia. L'Italia e l'Abruzzo in particolare si sta distinguendo ultimamente con risultati di un certo rilievo a livello nazionale e internazionale. Beh sì, questo è un evento importante, insomma un incontro internazionale, anche se poi in prospettiva di un campionato mondiale, quindi sicuramente ci sono atleti che stanno bene fisicamente, non è quindi un incontro così. Quindi è un incontro veramente importante che speriamo possa anche rilanciare la box nel nostro territorio. Perdita importante in casa nuova HF Teramo, la pallamano leonessa ha trovato l'accordo con Maria Vittoria Gioia. La giocatrice argentina saluta così la compagine abruzzese dopo un anno ricco di soddisfazioni sportive per trasferirsi a Brescia. Aldo Coccioli è il nuovo istruttore della scuola calcio Gaetano Bonolis Teramo. Il professore Teramano si occuperà della categoria Pulcini e collaborerà con il riconfermato Stefano Cognata. Un atleta giugliese, Marco De Flavis, si è ben comportato negli ultimi campionati europei di pattinaggio su rotelle, conquistando ben sei medaglie. Sentiamolo. Marco De Flavis è un altro ragazzo giugliese che profuma di medaglie. Quante nell'ultimo campionato? Sei nell'ultimo campionato europeo. La passeggiata, eh? Tre ore, due argenti e un bronzo. Nel campionato che si sono svolti? Tra Vorg, il campionato europeo su pista e Isbruck, quello su strada. In Austria. Sì, sì. Ma che è un qualche rimpianto, tra l'altro? Potrebbe essere qualche cosa di più, eh? Il bilancio sia molto positivo. Il bilancio positivo comunque sono tre ori, però le altre tre medaglie che comunque potrebbero essere oro dovuti a errori miei e anche di squadra, perché comunque c'era anche la staffetta e abbiamo raggiunto un argento. L'abbia bisogna stare attenti quando si fanno i cambi, eh? Eh sì, il cambio è fondamentale, però è mancato l'ultimo guizzo del mio compagno di squadra nello sprint finale. Però ci si erano rifatti subito su strada che abbia vinto l'oro. Ma invece qual è che hai potuto fare da solo, tutto a posto, eh? Dopo, due ori le ho riportate a casa. Da una gara a 500 dovevo lavorare come gregario per un mio compagno, per raggiungere sempre l'oro. E in un'altra sono scivolato all'ultima curva che mi ha fatto perdere quei pochi decimi. Allora, tu quant'anni hai? 18 anni, hai fatto 18 anni. In quante medaglie hai vinto complessivamente da quando fai l'attività? C'è un po' di conti? Allora, a livello italiano 14 titoli italiani, a livello europeo 10 titoli. Mondiale? Mondiale è iniziato l'anno scorso, è iniziato con un sesto posto e ci riproverò quest'anno a novembre in Taiwan. Taiwan, andare sempre con questi posti strani a fare i mondiali. Eba, sei in forma? Sì, sì, al momento sono in forma, sono dei bei tempi. Adesso vedremo col prossimo campionario italiano su pista a Scaltenigo, in provincia di Venezia, e vedremo gli altri risultati. Io faccio sempre questa domanda, la scuola? Scuola tutto apposto, nel quarto anno ci ho scientifico, al Curie è andato bene, e il prossimo anno farò il quinto, quindi gli esami. L'esami di maturità? Esatto. Prossimi impegni? Quindi, allora, vicino a Venezia. Venecia, settembre, campionario italiani. Prima ci sono dal 7 al 9 di agosto, il trofeo di tre piste che si svolgerà fra San Benetto, Martinsicuro e Civitanova Marche. Ecco, nascono campioni come te in zona? C'è qualcuno che qui, ma c'è tempo, insomma, passare idealmente l'eredità? Speriamo, perché la società Giulianova, diciamo, è andata un po' a spegnere negli anni, quindi... Tu sei a Martinsicuro? Io sono a Martinsicuro. Sì, a Martinsicuro comunque abbiamo dei talenti che secondo me faranno bene in futuro. Anche Giuliesi? Sì. Eh, viene qualcuno? Sì, mio cugino. Tutti in famiglia, allora? Eh, già. Attinaggio su strada e su pista. Esatto. Allora, abbiamo detto mondiale, sì, ci vai. Sì, dovrei essere in selezione così sicuramente. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Sì, dovrei essere in selezione e buona serata, grazie per l'attenzione e buona serata, grazie per l'attenzione e buona serata.